Beh, convegno questa sera a Mesuraca, ecco, su L'Aido, che è l'associazione donatori organi italiani. Beh, è chiaro che ne parliamo direttamente con il dottor Bossio, che si occupa appunto di tutto ciò, dottore, e questo lo fa in quel di Crotone. Dottore, com'è la situazione ad oggi delle donazioni? Diciamo che in Italia la donazione degli organi e i trappianti di organi vanno, diciamo, molto bene. Nonostante i tagli a cui la sanità nazionale è stata sottoposta, una volta eravamo fanalino di coda in Europa, da 23 anni a questa parte l'Italia è ai primi posti, è ai primi posti insieme con la Spagna, per quanto riguarda l'efficacia e l'efficienza di questo campo della sanità importante che sono i trappianti. Certo, diciamo che il trappianto è la terapia ideale per il paziente nevropatico, che ormai i suoi reni non funzionano più, anche perché le terapie sostitutive, come la dialisi ex corporea e la dialisi peritoneale, diciamo, fanno una parte delle funzioni che realmente fa il rene, quindi invece un rene trappiantato praticamente sostituisce completamente la funzione del rene ammalato. Franco Urenda è il presidente Aido a Mesoraca, ma è quello che appunto si impegna molto per portare avanti questa giusta causa e per donare, no? Ecco, beh, gli altri dottori ci hanno parlato un po' della situazione, della donazione in Calabria e in Italia. Beh, Mesoraca come risponde? Mesoraca come sempre risponde molto bene, tant'è che nel giro di quattro anni circa da zero potenziali donatori siamo passati a circa 300 donatori iscritti all'Aido a Mesoraca. Ma le volevo anche dire che non solo a Mesoraca, ma in tutta la provincia di Crotone siamo passati da quattro gruppi comunali a otto gruppi comunali quest'anno. Quindi vuol dire che il lavoro dei dirigenti della Presidente e dei dirigenti dell'Aido di Crotone porta dei buoni frutti, fatto bene, ci si allarga e dovunque si va si porta appunto questo messaggio di questa nuova cultura della donazione che è importante soprattutto nei territori come il nostro. Però le devo dire che Mesoraca, ma non solo a Mesoraca, risponde bene perché a Monte comunque dietro c'è un grande lavoro di informazione e di presenza.